Per fare un personaggio a collage un po' ispirato a Puntino, Achille, bastano due foglie di colori molto diversi. Uno serve come fondo e l'altro si taglia, direi più o meno a caso, facendo dei frammenti così un po' di forme un po' strane che poi vedremo come possono far diventare questa nostra operazione un personaggio. Allora, poi sì, una volta tagliati alcuni frammenti non troppo grandi, non troppo piccoli, si mettono abbastanza anche quello casuale su un fondo appunto di colore diverso, vicine, abbastanza vicine, non tanto sovrapposte, ma abbastanza vicine che si tocchino. Si incollano per bene e se non sembra ancora nulla, aspettate a vedere quando su questo personaggio, mostro, boh, mostro, boh, non so cosa, sarà stato messo un occhio. Possiamo poi, oltre all'occhio, fargli un ciuffino? Vogliamo fargli delle zampette, una codina? E poi potete decorarlo come vi pare, potete colorarlo, potete fargli delle piccole palline, qui non so, scagliette, delle altre decorazioni come più vi piace, aggiungendo piccoli particolari come una bocca per esempio o un naso. Voilà!